Il progetto di Ferrovie dello Stato per il raddoppio della linea Pescara-Roma va rivisto. È stato il parere unanime dei sindaci, dei parlamentari e così dei consiglieri regionali intervenuti ieri al Consiglio Comunale straordinario indetto dal sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, che ha ribadito l'importanza dell'opera del raddoppiamento, ma vanno apportate variazioni al progetto. Quest'opera è da fare, è un'opera indispensabile, ma è un'opera che ha bisogno di modifiche, modifiche sostanziali. Oggi con l'interramento il problema è risolvibile, perché si ricreerebbe una vivibilità diversa, si andrebbe ad avere un po' in qualche modo il riscatto di quelle che fin adesso abbiamo avuto. Dico interramento non perché l'ho sognato di notte, ma ne abbiamo parlato anche con Ferrovie dello Stato, abbiamo parlato molto tempo fa, parli di qualche anno fa, poi l'abbiamo inserito anche nel nostro piano regolatore nel 2016, l'abbiamo discusso con l'allora governatore D'Alfonso che venne qui nella nostra sala, portò esponenti del Ferrovie dello Stato, ingegneri, tutti quelli che potevano valutare questa cosa. Nessun di loro ha detto che il progetto non si può realizzare. Unità di vedute straordinaria che vede tutti d'accordo sulle modifiche, ha sottolineato il sindaco di Chieti Diego Ferrara, presente insieme ai sindaci di Scafa, Manoppello e vice sindaco di Pescara. La regione dal canto suo avrà un'interlocuzione centrale. La proposta che io avanzo al governo regionale è che a coordinare questo tavolo sia il direttore generale della regione Abruzzo, che per anni è stata dirigente, amministratrice delegata, direttore generale proprio delle ferrovie italiane. A maggior ragione può garantire quel necessario tempo, luogo, momento di confronto tra comitati, amministrazioni comunali, le province, la regione, il ministero e una società così importante partecipata dallo Stato. Sul finire del Consiglio prende la parola il presidente del comitato intercomunale Comfer, Antonio Bianchi, che rispondendo al governatore Marsilio ribadisce l'utilità della infrastruttura, così come la necessità di spostare la tratta interporto-scafa come già previsto in altri progetti. Stessa soluzione auspicata dal sindaco di Manoppello, Giorgio De Luca. Di realizzare questa variante all'interno dell'interporto perché è una logica, cioè non possiamo far sì che uno scalomerci quali l'interporto non abbia una ferrovia diretta. Attualmente è stato realizzato il primo tratto che viene da chi di scalo verso l'interporto, ma da Roma venire verso l'interporto non c'è, quindi il treno andrebbe a chiedi e farebbe marcia indietro. Parliamo di alta velocità, di tutti questi fondi messi a disposizione e poi si arriva nel ridicolo che non si deve fare avanti e indietro su una stessa tratta. Noi chiederemo e ribadiremo che questo progetto esiste e quello che è grave non è stato preso come alternativa, così come la legge prevede, perché la legge numero 77 dell'estate del 2021 prevede che ci devono essere progetti alternativi. Questo qui già realizzato sempre dall'RFI non è stato preso in considerazione, tra l'altro è più vantaggioso, è più economico, è più sostenibile e non spacca in due manoppello. E l'onorevole Camillo D'Alessandro mette palla al centro ricordando che Ora il commissario e lo Stato, in questo caso il Governo, deve prendere atto di alcune esigenze che sono oggettivamente risolvibili. In attesa dell'incontro di ferrovie italiane con il commissario Macello, previsto per domani, oggi pomeriggio si attende il confronto con il Presidente della Regione, Marsilio.